Buongiorno da Casottottonette. Oggi invece poteremo il glicine misteria. Il glicine è una pianta rampicante che produce dei fiori stupendi, pianti, anzi sono infiorescenze, ma tende a produrre rami troppo lunghi che danno un disordine totale alla crema. Va potato due volte all'anno, una potata estiva e un'invernale. Quella estiva serve appunto a eliminare i tracci troppo lunghi e vanno accorciati solo per dare armonia di forma, quelli che invadono altre zone del giardino compromettendo lo sviluppo di altre piante. Per bruciare i rami ovviamente utilizzeremo delle cesoie con affilate e disinventate e taglieremo i rami troppo lunghi. L'abbiamo detto per fare con armonia di forma. Laddove non arriviamo, perché sono troppo alti, invece utilizzeremo delle cesoie a manici ergonomici e elimineremo anche i rami secchi o danneggiati. Questo glicimo è molto indipendente, si scelgo un po' troppo. Ecco, questi sono proprio in atto. Quando abbiamo votato in questo modo, vediamo tutti i rami.